Siamo qui stasera perché noi dell'Aldonoro ci teniamo a ricordare le vittime di Parigi. Una settimana fa, a quest'ora, qualcuno usciva per passeggiare, qualcuno per prendere qualcosa in un bar, qualcuno per andare a divertirsi, qualcuno per andare ad ascoltare un po' di musica, qualcuno ha leso la loro libertà. Noi siamo qui per ricordare quel momento e per ricordare in particolare tutti quelli che in questi giorni, in queste ore e negli anni hanno sofferto a causa del terrorismo. Noi vogliamo dare un esempio partendo dalla scuola, affinché la città di Sarolo possa rinascere in una comunità con l'intento di educare i ragazzi partendo dal basso, partendo da queste piccole iniziative che secondo noi sono importantissime per dare la possibilità ai ragazzi di crescere in un modo sano e rispettoso di tutte le culture, tutte le religioni, tutte le razze, tutte le etnie. Io mi chiamo Roberta Bottero, sono un genitore, sono il presidente del comitato genitori dell'Istituto Aldomoro. Sono veramente molto contenta e soprattutto onorata di far parte comunque di un istituto dove abbiamo un vicepreside dei professori che tengono tantissimo anche soprattutto l'educazione dei nostri figli, puntando molto sull'esempio e su proprio creare dei cittadini pensanti, dei cittadini che comunque si rendono conto di quello che c'è intorno e di tutto ciò che succede. Questa sera noi vorremmo fare una marcia silenziosa, una marcia silenziosa, non vogliamo tutti parole perché di parole a nostro avviso ce ne sono già tanti, ci sono già tanti discorsi e vorremmo ognuno di noi, indipendentemente dalla cultura, dalla religione, dalle varie diversità, meditassero e soprattutto vedessero anche un ballume di speranza che poi sono i nostri ragazzi, che vivono comunque in un contesto, hanno la fortuna a mio avviso come genitore di dire che vivono in un contesto multietnico, dove hanno la possibilità proprio dalle diversità di imparare a migliorarsi e di crescere e questo non deve assolutamente rappresentare una barriera o comunque un qualcosa che invece vada a portare delle ostilità tra di loro. Quindi il messaggio nostro è molto semplice, peraltro siamo anche molto contenti della partecipazione e dell'adesione che hanno dato tantissime associazioni di Saronbo, onestamente non ce l'aspettavamo neanche, quindi comunque ringraziamo anche tutti per questo, speriamo che vada tutto bene. Io mi chiamo Amami Sadok, responsabile del Centro Culturale Islamico di Saronno, siamo qui stasera con tutta questa gente che diamo la solidarietà a quello che è successo in Francia e diamo tutta la nostra condolienza e condanniamo completamente questi fatti, quello che è successo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.